Siamo pronti con una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi, Gabriele? Parleremo degli strumenti a disposizione delle imprese per tutelare il proprio patrimonio in caso di passaggio di un dipendente alla concorrenza. Lo faremo con i nostri ospiti. Bene, allora, a tra poco. A tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. In questa puntata di oggi parleremo degli elementi chiave per fidelizzare il personale e cercheremo di capire come attrarre e trattenere i talenti, soprattutto in questo periodo dove prevale soprattutto il lavoro da remoto a causa della pandemia. Lo faremo con i nostri ospiti in collegamento che saluto, partendo dall'Avvocato Paola Gobbi, partner dello studio legale Unilex Stucche Partner. Ben arrivata. Grazie, buongiorno a tutti. E saluto anche il dottor Francesco Caccavo, HR Director di Douglas Italia. Ben arrivato anche a lei. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Dunque, io partirei dall'Avvocato Gobbi. Dunque, per la fidelizzazione del personale è un elemento, sicuramente fidelizzare il personale è un elemento strategico, chiave, soprattutto per la crescita della produttività aziendale. Dunque, quali sono gli strumenti, se vogliamo dire così, a disposizione delle aziende, del datore per non perdere le risorse e a disposizione? Allora, la tematica è sicuramente molto interessante e molto attuale, visto il quadro complessivo. Gli strumenti che abbiamo a disposizione sono strumenti che devono essere letti un po' come un investimento a garanzia di un po' tutto il processo di selezione e di individuazione del personale all'interno delle aziende, perché ben sappiamo che ci sono anche dei costi di selezione, di costi di recruitment, dei costi di turnover. Onde evitare anche questi tipi di costi o ottimizzare la loro riuscita può essere sicuramente interessante capire come fidelizzare i dipendenti. E un primo strumento può essere uno strumento di carattere non economico, perché si può pensare ad esempio alla mobilità interna, che è qualcosa che consente di shiftare i dipendenti rispetto a mansioni che gli consentano di avere un quadro più globale di quelle che sono le attività aziendali e dall'altro lato gli consente anche di soddisfare eventuali loro desideri di avere una professionalità un pochino più piena, un pochino più rotonda di svolgere mansioni meno rutinarie. Un altro strumento molto utile è l'attività di formazione interna, che anche questo consente sicuramente di crescere ai dipendenti all'interno dell'azienda e dall'altro lato consente all'azienda di fornire tutta una serie di strumenti e di nozioni utili alla produttività e al processo aziendale. Questo è vero che può essere un po' un'arma a doppio taglio, perché un lavoratore formato, ben costruito, con delle nozioni anche all'avanguardia e sempre aggiornato è sicuramente ricco di competenze. Però abbiamo visto che nell'arco dei tempi un po' la storia ci insegna negli ultimi periodi dove molto spesso le aziende utilizzano lo strumento della formazione facendo crescere un po' giovani talenti, cioè l'istituzione di una scuola di formazione interna, collaborazioni con le università, con vari istituti. Questi consentono di far sì che il processo formativo sia un processo un po' telorizzato dove di fatto la risorsa è un po' costruita a misura su quelle che sono le esigenze aziendali, quindi da un lato fidelizza perché fa costruire la professionalità del dipendente, dall'altro lato evita che possa essere una competenza un po' più trasversale e facilmente rivendibile sul mercato una volta che il soggetto è formato. E poi possiamo avere degli strumenti di carattere economico, quindi che comportano un costo per il datore di lavoro, che possono essere tutto il mondo dei benefit, dei benefit del welfare aziendale ad esempio, dove il fatto di fornire un'autovettura, delle polizze assicurative, degli sconti, il contributo per la casa piuttosto che per la scuola dei figli è sicuramente potremmo dire un pacchetto complessivo che crea un rapporto saldo tra l'azienda e il dipendente. E da ultimo forse quello che poi è lo strumento più classico mi viene da dire che è un'eventuale quota incentivante, cioè tutta una parte di bonus che possono essere erogati con modalità tali da consentire che i dipendenti restino in azienda per un determinato periodo di tempo. Il meccanismo può essere sia un pagamento dilazionato e allungato nel tempo, per cui magari i dipendenti che vengono dedicati a particolari progetti, a delle attività che magari hanno una durata temporale circoscritta nel tempo, il fatto che il bonus sia spalmato anche oltre la durata di quel progetto fa sì che il dipendente permanga anche nel periodo successivo. Oppure viceversa, nel momento in cui si vuole premiare comunque un dipendente ma si vuole anche garantire una certa stabilità del rapporto e si può pensare ad un'erogazione in forma anticipata e un eventuale obbligo restitutorio nel momento in cui il rapporto dovesse cessare prima della scadenza di un certo periodo di tempo. In questo modo ci sarebbe sicuramente un effetto di disincentivo al dipendente di andare via prima di un determinato periodo. Quindi direi che forse questi sono gli strumenti più utilizzati per fidelizzare i dipendenti. La ringrazio, un po' anticipato anche un'altra domanda che poi le vorrei fare ma poi la vediamo in maniera molto velocemente successiva dopo all'intervento del dottor Caccavo al quale a questo punto chiedo leadership. Parliamo di leadership della gestione del personale, come sta cambiando, come è cambiato, come cambierà? La leadership c'è una vecchia frase che ormai è famosa, che è parzialmente vera, che è quello che le persone cambiano lavoro non tanto per le aziende ma a seguito dei propri capi. Dico parzialmente vera ma in realtà leadership era, è assolutamente importante a oggi e ancora di più lo sarà in futuro. Questo perché? Perché le persone ovviamente cambiano, come dire, gestiamo nuove generazioni, quindi nuove persone che hanno interessi diversi, anche scale valoriali completamente diverse dalle nostre e ovviamente già questo fa parte un po' del DNA di ogni direzione delle risorse umane. A maggior ragione in questo periodo, purtroppo con il Covid, di fatto c'è stata un'accelerazione nei processi di cambiamento organizzativi. C'è da dire che la leadership che stiamo applicando in questi mesi è una leadership, lasciatemi una definire, un po' di emergenza, perché siamo stati costretti a reinventarci in pochissimo tempo, costretti a modificare dall'oggi a domani praticamente modelli organizzativi, modalità di lavoro, modalità di interazione personale, assegnazione dei compiti, verifica dei compiti stessi in pochissimo tempo. Quindi il Covid non è entrato un anno di nuovo, ma sicuramente ha accelerato, ha schiacciato un po' il piede sull'acceleratore. Cosa ci aspetta dopo? Quella sarà l'importanza della leadership e la necessaria, come dire, necessità di, appunto, evolvere da questo punto di vista. Il fatto è che concetti come lo smart working, ad esempio, saranno sempre più presenti nelle realtà aziendali. La necessità di seguire le persone, di farle crescere, quindi di implementare dei processi di sviluppo interni di un certo tipo. La capacità di gestire persone in remoto e di valutarne il proprio lavoro. Una nuova leadership che anche si appoggerà su strutture sempre meno gerarchiche, per come noi siamo abituati ovviamente a intendere le strutture gerarchiche, ma che sarà un pochettino più cooperativa, collaborativa, molto più aperta. Quindi una valutazione anche delle persone è che non sarà basata solo sulle ore di lavoro, che oggi è anche un po' una necessità normativa, perché di fatto noi viviamo ancora in quel contesto normativo, ma che si baserà sempre più sulla qualità e meno sulla quantità. Non le nego che questo avrà un impatto nel medio e lungo termine anche sul concetto di lavoro dipendente, perché ovviamente il concetto di smart working, per come molti lo intendono, è sempre più vicino quasi a un concetto di lavoro, comunque direi di contratto parasuppordinato o addirittura autonomo. Quindi ci saranno tante modifiche, tante innovazioni, tanti cambiamenti, alcuni si riuscirà a farli, altri meno. Però è evidente che ci sarà la necessità da parte di direzioni risorse umane strutturate, in grado, e credibili soprattutto, in grado di guidare questi cambiamenti e di fornire alle persone che coordinano e gestiscono altre persone, di fornire loro appunto gli strumenti, queste nuove modalità lavorative, organizzative, di performance, tutta una serie di elementi che in parte oggi venivano compensate dall'attività in presenza e che un domani invece dovranno tenere conto di un aspetto, anche un pochettino se vogliamo più obiettivo, perché è ovvio che venendo sempre meno quella relazione anche un po' diretta e anche forse un pochettino discrezionale, ci si sposterà sempre verso aspetti più obiettivi, più oggettivi anche. Quindi cambierà tanto, cambierà tanto e credo sarà la sfida dei prossimi anni, già dei prossimi mesi credo, ma anche dei prossimi anni per ogni azienda che voglia, ovviamente sarà passo del mercato, sarà passo ovviamente dell'innovazione anche tecnologica, quindi come dire, supportare questi cambiamenti che sono anche di trasformazione digitale a loro volta, quindi sarà assolutamente fondamentale per le aziende seguire questo flusso. La ringrazio, dunque come già ho anticipato prima vorrei ritornare un attimo dall'avvocato Gobi alla quale chiedo appunto a proposito di personale strategico, quali sono, se ci sono in maniera, ecco elenchiamoli un po' velocemente, già mi ha risposto un po' prima, degli accorgimenti contrattuali per cercare di trattenere, disincentivare le dimissioni da parte appunto di questo, del personale o dei dipendenti considerati strategici chiave per un'azienda? Ma allora gli strumenti che diciamo classicamente sono i più utilizzati, al di là appunto dell'accenno al prima, il tema del bonus, ma quello serve anche per fidelizzare, per trattenere più che per disincentivare l'uscita? Innanzitutto possiamo pensare a quello che è il patto di stabilità o di durata minima del rapporto di lavoro, cioè nel momento in cui si vanno ad assumere delle risorse che vengono individuate come strategiche, ci si può accordare con il dipendente per la sottoscrizione di un accordo dove le parti si impegnano, il dipendente o reciprocamente anche l'azienda, a non recedere dal rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo. Allora questa struttura ha sicuramente un vantaggio perché consente di in un certo senso potremmo dire quasi blindare il dipendente e normalmente a garanzia del fatto che questo patto sia rispettato le parti concordano, prevedono nella patruzione un eventuale penale per l'inadempimento. Qual è il vantaggio della penale? La penale è una forfettizzazione del danno, cioè tutte quelle complicazioni e quelle difficoltà che sono collegate a dover provare il danno effettivamente subito dall'azienda in caso di uscito del lavoratore, con l'introduzione di una penale abbiamo una forfettizzazione del danno. Una penale che possa essere ad esempio anche di un importo comunque considerevole, ovvero diciamo non irrisorio, è sicuramente una penale che disincentiva i pensieri del lavoratore di lasciare l'azienda e queste patruzioni sono riconosciute valide dalla giurisprudenza e da un lato prevedono l'erogazione di un corrispettivo oppure, e anche su questo la giurisprudenza che è sorta con il famoso caso dei piloti e delle compagnie aeree, prevedono come corrispettivo ad esempio anche l'attività di formazione, cioè dicevamo tutti quegli strumenti e come diceva anche il dottor Caccavo, tutto quell'impegno che anche adesso bisogna dedicare, utilizzare per comunque creare un percorso nuovo, dare delle competenze nuove al personale, tutti questi investimenti possono essere anche il ritorno per degli impegni da parte dei lavoratori a rimanere in azienda per un certo periodo di tempo. Un altro strumento può essere quello del prolungamento del patto di preavviso, che è uno strumento che nasce soprattutto nel settore delle banche assicurativo, dove ci sono delle previsioni del contratto collettivo che aveva lasciato aperto i termini di preavviso e quindi consentito il prolungamento, legando così il dipendente nel momento in cui dà le dimissioni, non è un divieto di recesso come per la stabilità, ma il fatto di dover rispettare un preavviso più lungo che consente al datore di lavoro di affiancare alla persona una nuova risorsa e quindi avere un passaggio di consegne effettivo e tutelare le competenze e dall'altro lato invece prevede che il lavoratore sia un po' meno appetibile sul mercato, proprio perché con un preavviso così impegnativo è un pochino più difficile, sicuramente più difficile ricollocarsi. La ringrazio, abbiamo proprio una manciata di minuti prima di chiudere questa prima parte di doppio binario, un'ultima domanda velocemente al dottor Caccavo. Ecco, visto che siamo in questa fase ancora di pandemia, ne stiamo fortunatamente uscendo, almeno speriamo veramente di farlo il prima possibile, speriamo arrivino ovviamente quanto prima ai vaccini. In questa fase si lavora soprattutto prevalentemente da remoto, visto che stiamo parlando anche di pacchetti di iniziative da mettere in campo da parte delle Ciar, quali sono questi pacchetti di iniziative per cercare di attrarre e far crescere talenti? Sì, molto velocemente, allora le politiche di attraction dei talenti sono politiche di medio e lungo periodo perché inevitabilmente poi hanno varie origini. Consideriamo che il lavoro in remoto già oggi ha impattato formettamente anche sul lato umano, oltre che professionale, delle persone che spesso, anche perché non è stata una scelta, è stata una forzatura, per cui di fatto, come dire, molti l'hanno subita. Pensando ai giovani, la cosa ci preoccupa un po', giovani a maggior ragione poi giovani talenti. Già oggi, ripeto, rileviamo che ci sono anche grossi problemi, anche di carattere psicologico, legati ovviamente allo stress, alla condizione spesso di disagio di questa attività lavorativa. Servono idee chiare, questo è sicuro. Anche qui la direzione personale ha il compito di mettere in campo tutta una serie appunto di attività e di protocolli, sia organizzativi che formativi, per far sì da avere, come dire, questi percorsi chiari e definiti per questi giovani, per evitare che loro si sentano fondamentalmente esclusi dai progetti tagliati fuori, anche da quelle dinamiche che chi ha una maggiore seniorità in azienda un po' l'ha già fatta sua. Però è evidente che le nuove leve che entrano al lavoro e a maggior ragione e ad alto potenziale avranno un'enorme difficoltà a sentirsi parte di una squadra, a condividere una visione ad esempio e a sentirsi parte di un team. Quindi io credo che ci dovrà essere da parte delle aziende sicuramente una maggiore integrazione anche con le scuole, con l'università in particolare ad esempio, con modelli più integrati, dei modelli organizzativi che prevedono sicuramente il lavoro da remoto ma anche quello in presenza, soprattutto per i giovani che probabilmente più di altri hanno forse anche la possibilità di poter spingere sull'acceleratore soprattutto nei primi anni della loro vita professionale, una mobilità trasversale che citava anche l'avvocato precedentemente, che consente di fornire una visione professionale, quindi un incremento di competenze che va al di là della specifica specializzazione del singolo e sicuramente arricchisce molto i giovani che sono molto affamati di conoscenza, molto affamati di conoscere anche il business nelle sue varie dinamiche e percorsi di sviluppo basati ovviamente sulle reali performance in affiancamento, ovviamente a percorsi ad esempio di mentoring o altro per far sì che siano accompagnati e seguiti nel migliore dei modi. Oltre a una cosa importantissima dell'ultima che è quello di processi di comunicazione interni assolutamente strutturati, trasparenti e di alto livello. Solo in questo modo, non solo nel periodo di emergenza ma anche dopo, l'attività in remoto potrà essere conciliata con l'attività in presenza, non mortificherà percorsi di crescita soprattutto dei giovani e secondo me fornirà anche quella visibilità e quella trasparenza necessaria nel mondo aziendale oggi. La ringrazio, ringrazio il dottor Caccavo, HR Director di Douglas Italia per questo suo importante intervento. Ovviamente saluto anche l'avvocato Paola Gobbi dello studio legale Uniolex Stucchi Partners, grazie anche a lei. Grazie, grazie a voi. Ovviamente con l'avvocato poi ci ritroveremo qui anche per la seconda parte di Doppio Binario, adesso pochi minuti di pubblicità e poi rientreremo qui in studio. A tra poco. Ben trovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario, continuiamo a parlare di tutela del patrimonio in azienda, come abbiamo anche visto nella prima parte della trasmissione, i prossimi mesi potrebbero dar vita a un forte turnover di personale per le aziende, per cui vedremo da un lato come possono fare le imprese a proteggere il proprio know-how anche in caso di passaggio appunto di un dipendente alla concorrenza. E dall'altro vedremo anche come possono, gli strumenti che stanno mettendo in campo le aziende per tra virgolette fidelizzare i propri dipendenti e insomma mantenere comunque il loro benessere anche mentale in questo periodo così difficile. Lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento, l'avvocato Paola Gobbi, partner di Uniolex Stucchi & Partners, benvenuta avvocato anche da parte mia. Grazie, grazie a tutti. Grazie a lei e la dottoressa Alessandra Maria Sama, HR Director di Mettonic Italia, benvenuta anche a lei. Grazie, benvenuti a tutti voi. Ecco, grazie a voi per essere con noi, anche se in collegamento. Avvocato Gobbi, io parto da lei. Come dicevamo in apertura, il turnover di personale può favorire il passaggio della risorsa umana ai competitor dell'azienda in questione. Per cui è possibile, a suo avviso e con quali strumenti, limitare la possibilità del collaboratore di utilizzare le informazioni apprese dopo che è avvenuto malauguratamente per l'impresa, il passaggio al concorrente? Certo, perché quello che dobbiamo ottenere, forse il punto cardine, è che col passaggio del dipendente spesso c'è il passaggio di competenze e forse il dipendente più competente è quello che è anche più appetibile sul mercato. Ci sono degli strumenti, fortunatamente, che anche nel tempo si sono, possiamo dire, un po' evoluti e adattati alle esigenze del mercato. Primo fra tutti il patto di non concorrenza. Il patto di non concorrenza è un patto che può essere sottoscritto col dipendente tanto al momento dell'assunzione quanto nel corso della vita del rapporto lavorativo, quindi si può aggiungere anche nel momento in cui si valuta che il dipendente abbia assunto ruolo, una funzione, delle competenze peculiari rispetto all'inizio del rapporto ed è un patto in base al quale il lavoratore, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, quindi non potrà svolgere attività in concorrenza, ma che tipo di attività? Potrà essere tanto un'attività analoga a quella che svolge all'interno dell'azienda, quindi non potrà svolgere le medesime mansioni, se sono mansioni ad esempio di particolare rilevanza o incidenza. Diversamente potrà anche essere vietata la possibilità di andare a lavorare per un soggetto, quindi un altro datore di lavoro, che sia invece in concorrenza con il precedente. Il patto di non concorrenza ha delle caratteristiche che però legano e vincolano il datore di lavoro, innanzitutto oneroso, quindi deve essere previsto un corrispettivo, deve essere stabilito per iscritto, ci deve essere un'indicazione del limite territoriale e ci deve essere un'indicazione della durata. Questi elementi sono tutti elementi che sono previsti appena di nullità, per cui bisogna anche avere determinate accortezze nel momento in cui si vanno a stipulare questi tipi di patti. Il modo per disincentivare di fatto il lavoratore che si è impegnato con un patto di non concorrenza a non violarlo, perché poi per evitare un po' il ragionamento che possa essere, ma sì, intanto ho preso i soldi del patto, poi vediamo dopo che cosa succede, può essere l'introduzione di una penale. La penale fa sì che ci sia una forfettizzazione del danno da parte dell'azienda e in questo modo si evitano quelli processi più difficili in sede giudiziale di prova del danno subito dall'azienda. Un altro strumento può essere un patto di riservatezza, cioè dove forse alla fine l'alimento più rilevante è la competenza in sé rispetto al profilo del lavoratore, si può pensare ad introdurre dei patti di riservatezza legati a una serie di informazioni, dati, processi, formule che limitano il lavoratore nella possibilità di poter utilizzare, divulgare, riferire, comunicare, non dimentichiamoci che le tecnologie moderne consentono la possibilità di diffondere questi dati in maniera molto veloce, molto semplice, copiarle su chiavette, insomma non è che e quindi con questo impegno anche qui ovviamente tutelato da una penale perché altrimenti potrebbe perdere quell'efficacia deterrente e un ulteriore patto che forse sono i tre più significativi è quello di non storno, un patto di non storno che può essere rivolto sempre a secondo della funzione ad esempio rispetto a un ruolo chiamiamolo industriale o produttivo, il fatto di non stornare collaboratori dell'azienda, cioè i propri ex colleghi nel momento in cui passi da un'altra parte, evitare che poi uno conoscendo la struttura organizzativa interna possa scegliere le risorse più strategiche o che comunque possono mettere più in difficoltà il vecchio datore di lavoro oppure un non storno di clientela perché non dimentichiamoci di ruoli più commerciali dove è fondamentale, è il contatto della persona, del dipendente con i clienti e l'uscita del cliente può comportare anche l'uscita di fornitori strategici piuttosto che di clienti. Certo ecco, dottoressa Sama, passo la parola a lei e le dico insomma chiaramente tutto poi ex ante passa da una insoddisfazione del dipendente di fondo, per cui le chiedo voi comunque come azienda che tipo di iniziative state mettendo in campo per fornire comunque assistenza e supporto al personale. Sì grazie, beh allora noi siamo un'azienda che produce e commercializza dispositivi medici quindi abbiamo a che fare tutti i giorni con la salute delle persone, quindi durante questa pandemia abbiamo cercato di mettere al primo posto veramente la persona, la sua salute, non solo dei nostri dipendenti ma anche della sua famiglia e le faccio ecco qualche esempio di iniziativa che abbiamo incominciato a portare avanti fin da marzo ecco dello scorso di quest'anno e che continua ad essere ancora in vigore. In particolare abbiamo continuato ad investire sul well being e sul welfare interno, abbiamo attivato delle coperture sanitarie aggiuntive in caso di infezioni covid, abbiamo stretto accordi con fornitori esterni per effettuare tamponi in tempi rapidi presso tutta una serie di centri accreditati in Italia a prezzi scontati abbiamo attivato una convenzione per fare tamponi domiciliari attraverso una rete infermeristica capillare anche su tutto il territorio nazionale e questo viene offerto non solo per i dipendenti ma anche per i familiari. In generale come multinazionale noi fin dall'inizio della pandemia non abbiamo chiesto a nessuno non abbiamo messo le nostre persone in ferie o in permesso, ne abbiamo attivato procedure di ammortizzatori sociali tutt'altro ecco abbiamo sempre avuto le nostre persone al centro ecco della nostra attività e del nostro interesse e sugli aspetti anche un po' più soft perché le persone fin da marzo sono a casa e continuano a lavorare a casa non li abbiamo fatte tornare in ufficio anche dopo l'estate. Abbiamo investito molto su tutta una serie di webinar che hanno trattato tematiche attuali come la gestione dello stress, la gestione di eventi drammatici improvvisi come gestire emozioni che contraddistinguono anche lo stato di incertezza che stiamo vivendo anche in queste settimane come la paura, l'insicurezza, l'ansia, specifiche sessioni sul mindfulness, su come affrontare anche il covid con i bambini perché spesso lo sottovalutiamo ma anche loro sono molto sensibili su questo. Quindi abbiamo cercato di dare loro, le nostre persone, tutta una serie di attrezzi, di cassetta delle attrezzi per poter affrontare al meglio questo periodo ecco difficile. E anche in termini di engagement non ci siamo tirati indietro, abbiamo utilizzato, potenziato moltissimo la nostra radio aziendale, noi abbiamo una radio aziendale che si chiama Metronico NER che è uno strumento che noi utilizzavamo prima per tenere ingaggiate e informate le nostre persone, due terzi del nostro organico è persone che si muove sul territorio, va a visitare ospedali, centri ospedalieri tutto il giorno, quindi era un canale di informazione molto potente, ma l'abbiamo potenziato soprattutto in questo momento proprio per tenerli tutti informati su quello che stava succedendo e anche per comunicargli le linee guida aziendali. E poi abbiamo messo insieme alcune iniziative come l'Happy Hour at Home, per cui una volta a settimana ci troviamo tutti insieme in un clima un po' informale, ecco cerchiamo di connetterci e di mantenere quella forte relazione che ci contraddistingueva prima e che non vogliamo assolutamente perdere. E credo ecco che ci siamo riusciti. Insomma anche il team building svolge un ruolo veramente fondamentale per il benessere del dipendente. Ecco però avvocato Gobbi nel caso in cui comunque insomma il dipendente decida di passare alla concorrenza chiaramente ci sono tutta una serie di informazioni sensibili di cui appunto il dipendente potrebbe essere in possesso e parlo appunto di segreti aziendali, informazioni riservate. E quali strumenti preventivi hanno in mano le aziende, possono adottare affinché appunto questo possa non succedere? Ma allora diciamo gli strumenti possono essere vari, sicuramente può essere di spunto per capire un po' come muoversi quelle che sono un po' le previsioni del codice sulla proprietà intellettuale, che ci dice che è segreto commerciale quell'insieme di informazioni, di dati, di conoscenze che non sono facilmente reperibili sul mercato e che quindi i competitor non possono acquisire in maniera particolarmente agevole. Inoltre devono avere un loro valore economico proprio per il fatto che sono segreti e devono essere, ed è questo forse un punto molto rilevante, devono essere anche custoditi in modo da garantirne la segretezza. E' proprio sotto questo processo che allora, sotto questo punto che è importante capire che cosa le aziende possono fare perché le aziende dovrebbero per tutelare le proprie competenze e i propri segreti commerciali quindi istituire delle policy, ad esempio, dove si regolano tutta una serie anche di modalità di accesso ai dati delle password, delle chiavi di accesso, un'individuazione dei soggetti che possono essere autorizzati diciamo una sorta di catena gerarchica, chi può arrivare a determinate informazioni e chi no queste sono tutte procedure di carattere preventivo che in un certo senso vanno anche parallelamente con quelle che sono la provisione delle normative sulla privacy perché alla fine ciascun dato e ciascuna informazione dovrebbe essere trattato preventivamente solo da chi effettivamente ha bisogno di quelle informazioni. Poi possiamo pensare a qualcosa che mi verrebbe da dire tra virgolette un pochino più aggressivo possiamo parlare di controlli a distanza, nel momento in cui ci sono delle realtà produttive dove in effetti pensiamo a laboratori, pensiamo a processi dove ci sono anche delle formule la possibilità di controllare a tutela del patrimonio aziendale anche attraverso telecamere o strumenti di videosorveglianza, quelli che sono, oppure vengono trattate ad esempio merci preziose pensiamo ai laboratori dove vengono tagliate le gemme di diamanti piuttosto che si può pensare anche a questo tipo di intervento e poi si può pensare ad esempio a un'eventuale reazione ex post che può essere anche quella di far seguire il dipendente sia nel momento in cui c'è un sospetto di violazione della fiducia e che quindi ci possano essere dei segreti o delle informazioni che sono state trafugate sia successivamente e anche qui ad esempio anche in seguito alla recente riforma del GDPR sulla privacy comunque quelle che sono le autorizzazioni generali del garante sulle investigazioni da parte di agenzie autorizzate sono state fatte salve proprio per l'importanza che questo tipo di attività può rivestire al fine di ricostruire un po' come è andato e come si è sviluppato il processo di tentativo oppure purtroppo di uscita di informazioni riservate e poi qua chiudo insomma ci possono essere anche delle azioni giudiziali una richiesta di inibitoria nell'utilizzo di questi segreti il fatto che ci possa essere un'azione di inibitoria di blocco di eventuali storne di dipendenti che ci ricolleghiamo un po' alle previsioni di cui abbiamo parlato prima insomma ci sono anche diciamo se purtroppo l'ambiente non è così stimolante come quello di Metronica e c'è purtroppo qualcuno oppure sono come dire c'è qualcuno che fa la corte a chi è così ben strutturato e cerca di convincere il dipendente a passare a tutti i costi abbiamo anche degli strumenti poi di reazione per difenderci. Certo questo è un fenomeno che insomma va ben al di là del covid che era vero anche prima e che magari appunto nei prossimi mesi potrà insomma incrementarsi ma ecco dottoressa Sama il benessere del lavoratore è importante però chiaramente deve poi tradursi in un aumento anche di produttività per l'impresa e le chiedo appunto lo strumento dello smart working che è stato davvero inflazionato gioco forza in questi mesi. Com'è possibile utilizzando questo strumento trovare quel punto di equilibrio tra benessere e aumento di produttività? Sì mi fa piacere che mi fa questa domanda perché io sono una grande fan dello smart working e devo dire che questi mesi l'azienda l'ha sperimentato e devo dire che ne ha tratto ecco grande beneficio. L'arrivo ecco della pandemia non ci ha trovati impreparati. Noi come azienda abbiamo sempre impostato il rapporto responsabile collaboratore sui principi di collaborazione, fiducia, responsabilità, flessibilità e quindi siamo caratterizzati da una forte cultura della performance orientata e basata su risultati. Quindi noi per esempio sono 15 anni che non abbiamo le timbrature del personale, abbiamo una flessibilità molto estesa dell'orario di lavoro, nel 2012 abbiamo attivato il telelavoro, dal 2018 abbiamo lo smart working che viene molto utilizzato ed è stato molto utilizzato dalle nostre persone che lavorano presso i nostri uffici. Quindi fin dall'arrivo della pandemia le persone sono state smart working 5 giorni alla settimana e come ho detto prima non siamo tornati in ufficio neanche dopo l'estate. Ma questo non ha rallentato la produttività, anzi devo dire che in alcuni casi l'ha aumentata perché abbiamo un po' imparato, strada facendo, ad essere produttivi da casa, nonostante tutte le difficoltà familiari con i bambini eccetera, però devo dire che abbiamo continuato a portare avanti il nostro lavoro, abbiamo imparato a relazionarci con i colleghi in modo virtuale, a gestire i collaboratori da remoto, ad utilizzare anche meglio gli strumenti informatici e digitali e accoglierne anche tutte le opportunità. E tutto quello che noi abbiamo imparato in questi mesi oggi è diventato un patrimonio per noi che non vogliamo assolutamente risperdere, anzi lo vogliamo addirittura potenziare perché siamo consapevoli che per poter essere anche un'azienda attrattiva nei confronti delle nuove generazioni che verranno dobbiamo essere un'azienda innovativa, dobbiamo essere un'azienda che ha una modalità di organizzazione del proprio lavoro flessibile e agile. I ragazzi, i futuri ragazzi, i futuri talenti chiedono ecco se possono lavorare come, dove e quando vogliono. E quindi questa esperienza di questi mesi ci deve insegnare ecco qualcosa. Quindi abbiamo fatto tesoro di tutto questo e abbiamo già esteso la nostra policy di smart working in una fase post covid che speriamo insomma arriverà lo più presto possibile e quindi le persone potranno lavorare da casa quando vogliono, volendo anche sempre, si verrà in ufficio solo per esigenze di connessioni con i colleghi. Quindi io credo che veramente se c'è una forte cultura aziendale basata sulla responsabilità, sulla fiducia e sui risultati, sugli obiettivi, lo smart working è una situazione win-win, nel senso che la gente a casa ha un maggiore work-life balance, ci sono risparmi economici, del resto è anche vero che l'azienda deve trovare una modalità per alimentare il senso di identità aziendale, la cultura aziendale, il senso di team collettivo che magari può venire un po' meno lavorando ecco sempre da casa. Ma se trova quell'equilibrio io credo insomma che sarà una modalità e convincente per il futuro. Certo, assolutamente. Poi il segreto è riuscire anche in questo momento insomma a fare dei piani strutturati sul lungo periodo che insomma è un'espressione che adesso purtroppo sentiamo molto poco. Ecco, complimenti a entrambe per il dibattito a cui avete dato vita, ringrazio l'avvocato Paola Goppi, partner di Uniolex. Grazie a voi. E grazie anche alla dottoressa Alessandra Sama, HR Director di Medtronic Italia. Grazie anche a lei. Grazie a voi, arrivederci. E grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario. Grazie a voi.